Ve l'ho detto alla fine, non all'inizio, perché non sembrasse l'ennesimo atto di qualche maleducato arrogante che viene a dettare la linea. Io sono molto affezionato a una dichiarazione, una frase bellissima di Chesterton, che dice che la democrazia è il governo dei maleducati, mentre l'aristocrazia è il governo degli educati male. Ed è molto interessante su questo, sarebbe affascinante per chi di voi ama Chesterton discutere nel merito, ma non credo che sia il luogo adatto. È il luogo adatto quello di dirsi che dare tutte le colpe alla politica di quello che è successo in questi vent'anni è molto comodo, ma è anche profondamente ingiusto. Questo Paese ha un problema di classe dirigente, non ha un problema soltanto della politica. Noi stiamo facendo tutta la nostra parte, ma non tocca soltanto a noi. E il sistema della relazione come elemento chiave di un Paese in cui giornali, imprese, banche, fondazioni bancarie, partiti politici hanno pensato che si potesse andare avanti tutti insieme, dialogando e discutendo tra di sé, beh, quel sistema lì è morto.